è la ragazzi eccoci arrivati alla nostra destinazione di oggi siamo a bobbio il borgo dei borghi 2019 partiamo dal simbolo di bobbio ovvero il ponte gobbo una leggenda popolare narra che san colombano desideroso di proseguire il suo cammino verso roma fece un patto con il diavolo per far costruire il ponte il ponte fu costruito in una sola notte ma con le arcate una diversa dall'altra perché il si sarebbe servito di 11 diavoletti di statura diversa in cambio chiese l'anima della prima creatura che lo avrebbe attraversato san colombano però ad opera compiuta ingannò il diavolo gettando una pagnotta di pane sul ponte e attirando un cane che passò dunque per primo un'altra affascinante storia è quella sostenuta dalla studiosa carla gori secondo la quale il ponte di bobbio sarebbe proprio il ponte presente sullo sfondo della gioconda si tratterebbe di bianca sforza ritratta affacciata a una delle finestre del castello malaspina l'anima della gioconda La basilica di San Colombano ospita nella cripta le spoglie del santo, colui che ha dato vita alla regola colombiana appunto, dedita al lavoro nei campi, alla preghiera, all'istruzione e all'assimilazione della conoscenza. Il bellissimo duomo si affaccia sulla piazza principale, appena entrati non si può non restare impressionati dalla ricchezza dei colori, all'interno infatti trionfano il colore blu dei soffitti e il chiaroscuro a strisce alternate delle colonne. Ragazzi, mi sono perso, ma soprattutto la mano vuole il gelato, quindi il video deve finire qui, da Bobbio è tutto, iscrivetevi, mettete un like. Ciao! Ciao! Ho corso tantissimo. Don't rest here no more. Don't rest here no more. Grazie.